Armato di coltello avrebbe aggredito alcuni suoi coetanei. L'inquietante episodio in via Mancini ad Avellino dove in seguito ad una segnalazione sono intervenuti i carabinieri che hanno individuato e bloccato il minorenne che è stato trovato in possesso di un coltello a Serramanico. Stando a qualche testimonianza raccolta stesso sul posto, sembra che il ragazzino abbia aggredito alcuni minorenni che si trovavano nella stessa zona. Al momento del fermo il minore custodiva il coltello in una tasca dei pantaloni. L'arma è stata sequestrata e sono stati allertati i genitori del ragazzino, i quali sono stati denunciati per abbandono di minori o incapaci. Sono in corso indagini per stabilire se il minore, anche in passato, è stato protagonista di episodi simili. Infatti, in attesa che venga chiarito nei particolari quanto accaduto, torna alla mente ciò che si è verificato nei mesi scorsi, quando sempre per le strade del centro di Avellino, alcuni ragazzini sono stati avvicinati e picchiati da coetanei delle vere e proprie baby gang che in alcune occasioni si sono fatte consegnare anche del denaro dalle vittime.